Il commento è che tanto noi sapevamo che molto probabilmente le persone erano queste qui, cioè molti urlano però pochi ci mettono la faccia. Io la faccia ce l'ho messa durante la campagna elettorale e ce la continuo a mettere perché questa città merita qualcosa di meglio. Se vogliono continuare ad andare avanti se ne assumeranno responsabilità nei prossimi mesi perché è chiaro che nei prossimi mesi vedremo i frutti di questa non amministrazione dell'ultimo periodo. Ma anche perché devi vedere anche che il 6% che prese la lista di Dalmazio non ci vanno neanche più? Ma come hanno detto quelli di Nuove Energie, non rappresentano più neanche la maggioranza di chi li ha votati perché molti sono andati via. Quindi anche i cittadini che li hanno votati probabilmente non vogliono più questa giunta. L'ideale sarebbe tornare alle urne e rimettere in mano il mandato agli elettori. Questo è un avvenimento difficile. Odoni, nazzi, facciamo interviste?